ciao ragazzi io sono Emanuele bentornati su questo mio canale dedicato alla fotografia e al videomaking oggi sono qui per parlarvi un po' del film diretto da Wes Anderson nel 2014 Gran Budapest Hotel ma non sono qui per parlarvi della fotografia in generale del film sono qui per parlarvi di una peculiarità che sicuramente avrete notato se avete visto questo film ovvero l'utilizzo che fa Wes Anderson della ripresa frontale che poi vabbè è una tecnica che utilizza spesso e volentieri nei suoi film devo ringraziare per questo video il bellissimo articolo che ho trovato sul blog di David Burwell è stato illuminante come ho detto una delle tante particolarità di questo film e anche dello stile di Wes Anderson è la ripresa frontale della scena con gli attori che sono ripresi contro uno sfondo perfettamente perpendicolare mentre le riprese da angoli obliqui sono quasi sempre evitate questa è una tecnica che naturalmente non nasce con Wes Anderson ma la caratteristica che lega questa tecnica al regista è il fatto che lui la utilizza lungo tutto il corso del film alcuni dicono che questa tecnica ci dà quasi l'idea di guardare da fuori all'interno di un mondo chiuso e in effetti è un po' questa la sensazione che ho avuto la prima volta che ho visto gran budapest hotel e come ho detto poco fa Wes Anderson mantiene questa tecnica lungo tutto il film anche quando all'interno di una scena cambia inquadratura se i personaggi a dialogo si guardano l'un l'altro la telecamera è sistemata tra di loro e la linea dello sguardo passa sopra sotto o attraverso l'obiettivo anche se c'è qualche piccola eccezione qua e là ad esempio nei dialoghi ambientati in prigione ogni tanto Wes Anderson introduce anche inquadrature over the shoulder ovvero con la quinta dell'attore che viene inclusa nell'inquadratura e la scelta di questo posizionamento di camera rispetta anche la regola della linea dei 180 gradi la linea non viene oltrepassata perché la camera si trova proprio al di sopra di essa la regola dei 180 gradi permette di comporre nel modo corretto le inquadrature nei dialoghi immaginate un dialogo tra me e voi basta tracciare una linea retta che va da me a voi e per comporre le inquadrature dei dialoghi i primi piani miei e vostri la camera va sistemata o da un lato della linea o dall'altro se invece alterniamo e per riprendere voi vi riprendo di qua e per riprendere me metto la camera lì avremo delle inquadrature dove sia io che voi guardiamo nella stessa direzione quando andiamo a fare il montaggio e questo è sbagliato poi naturalmente ci sono un sacco di eccezioni alla regola dei 180 gradi anche con fini narrativi ma ci vorrebbe un video intero solo su questo ma per tornare alle scelte di Wes Anderson un'altra possibilità quella di inquadrare a 90 gradi rispetto all'inquadratura precedente dei personaggi e Wes Anderson sfrutta tutte queste varianti all'interno di Gran Budapest Hotel in molte inquadrature poi l'azione viene mantenuta nella parte alta del fotogramma così il nostro occhio rimane fisso in un punto a osservare la scena e non deve muoversi più di tanto spesso e volentieri poi chi utilizza questa tecnica di ripresa frontale opta per lenti con lunghe lunghezze focali che appiattiscono ulteriormente lo spazio Wes Anderson invece no lui utilizza obiettivi grandangolari e ancora un altro tipo di inquadratura usata in Gran Budapest Hotel per variare un po' è la vista dell'occhio di dio dall'alto e c'è anche un momento in cui Wes Anderson scherza un po' con noi la teoria vuole che se in un'inquadratura vuoi dare l'idea che un personaggio sia solo devi inquadrarlo decentrato in un campo lungo e qui Wes Anderson inquadra in questo modo il personaggio che vediamo nell'inquadratura però ce la fa sembrare come il punto di vista dello scrittore che sta guardando se lo scrittore stesse effettivamente guardando questo uomo lo metterebbe al centro del suo campo visivo e non di lato Wes Anderson come avrete notato tutti ha girato il film con tre rapporti d'aspetto diversi l'1 85 a 1 per il presente per gli anni 80 il 2 41 per gli anni 60 e l'1 33 a 1 per gli anni 30 e proprio riguardo il 4 terzi si può fare un discorso che abbraccia anche il widescreen la maggior parte dei film degli anni 50 e successivi sono stati girati col widescreen con un rapporto d'aspetto largo e proprio grazie all'allargamento dell'inquadratura c'è meno aria sopra i personaggi e meno spazio sotto di loro rispetto alle classiche inquadrature in 4 terzi gli spazi vuoti ora dove sono non sono più sopra non sono più sotto ma sono ai lati soprattutto nel formato anamorfico del 2 40 a 1 2 39 a 1 e per riempire un po questi spazi cosa fanno i registi qualcuno opta per spostare la camera più vicino agli attori spilberg ad esempio ha detto che da quando ha iniziato a usare l'anamorfico ha iniziato a girare molti più primi piani rispetto a prima Wes Anderson però non era preoccupato per gli spazi vuoti ha infatti utilizzato il set o le stesse aree vuote per bilanciare un lato con l'altro le inquadrature di un solo personaggio possono essere centrate come se fosse in posa mentre le inquadrature di gruppi sono disposte più o meno simetricamente ma Anderson non poteva semplicemente ritagliare le riprese in widescreen rendendole in 4 terzi no perché non sarebbero stati inquadrature fedeli a quel formato usando il 4 terzi e quindi stando più lontano dalla scena si ha molto più spazio sopra e sotto all'inquadratura aree che come abbiamo detto poco fa non sono presenti nel widescreen e come ha riempito queste aree Wes Anderson in vari modi ad esempio ha riempito l'area superiore dell'inquadratura sistemando la cinepresa sotto il livello degli occhi inquadrando per cui la scena dal basso verso l'alto durante la conversazione in macchina Anderson porta la testa di Bill Murray nella parte alta dell'inquadratura grazie a un angolo basso e anche il set può dare una mano ad esempio nell'inquadratura dell'abbraccio di Zero e Agatha si lascia molto spazio sopra la testa ma le scatole ammassate sullo sfondo riempono lo spazio dando quasi l'idea che i personaggi ne siano inghiottiti ma qual è il rovescio della medaglia dell'utilizzare lungo tutta la durata di un film questa ripresa frontale la perdita dell'intimità che deriva da inquadrature più angolate e meno rigide vedere una persona di tre quarti fa tutt'altro effetto che vederla sempre frontalmente ci distacchiamo un po' vedendo qualcuno sempre frontalmente invece di tre quarti riusciamo a cogliere meglio anche le espressioni del volto le emozioni invece questo tipo di approccio frontale è molto più distaccato e meno emotivo sono scelte che si fanno in preproduzione naturalmente prima di iniziare a girare un film quindi si ha bene chiaro in mente cosa si vuole ottenere e se questi sono i risultati beh direi che ogni tanto questo tipo di scelte possono starci bene ragazzi il video si conclude qua spero che sia stato interessante io come sempre vi ringrazio delle iscrizioni di commenti delle visualizzazioni e vi do appuntamento ai prossimi video ciao a tutti